Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovissimo episodio di Scritto nelle stelle Allora ragazzi, siamo in un giorno d'estate e stiamo festeggiando la fine della scuola di questo anno scolastico appena la nostra dolcissima Francesca tornerà a casa andando a fare un bel picnic perché si hanno voglia di staccare un po' dalla vita cittadina di Windenburg e andare a esplorare un posto nuovo tra l'altro loro non sono amanti del campeggio o cose del genere quindi è veramente la prima volta che staranno a contatto con la natura vera e propria intanto abbiamo per la prima volta ordinato la consegna della spesa insomma ecco qui che ce l'ha portata la nostra Kaori, ma ciao direttamente da Monte Comorebi ma sei triste? ah no sei flertante e se tu sei una romanticora e intanto vi faccio guardare le piccole aggiunte ho sostituito tra l'altro la bici che avevamo con questa qui che è perfetta per la nostra Tania e sì, tantissime decorazioni per il giardino accetta la consegna tu e altri piccoli, come dire, decorazioni per rendere sempre più accogliente questa casa nonostante, nonostante oddio dove ce l'hai poggiata qui appunto non, dalle la mancia perché tu sei una persona di buon cuore nonostante non abbiamo tantissimi soldi ragazzi anzi si può dire pochissimi ne avevo più di 2000 appena entrate in partita ma poi con le aggiunte che ho fatto mi sono rinata a questo va bene, grazie perfetto allora io direi intanto mia cara tu potresti preparare sì, la nostra Tania è fissata con gli ignomi e ogni ignomo qui ha un nome allora tu non sei proprio bravo a cucinare quindi limitati a quello che appunto sai di saper fare che non comporta tantissimo tempo allora qui tra l'altro abbiamo attivato la sfida della vita semplice quindi non sarà semplicissimo direi che trattandosi del pomeriggio slash sera potremmo preparare insalata di anguria in realtà noi abbiamo della pizza e delle patatine in frigo perché sapete che loro non cucinano mai in casa se no veramente a raramente pasticcio di taco biscotti frittelle e cosa ci potremmo portare? zuppa di funghi Tania che mi prepara una zuppa di funghi proprio non lo so allora facciamo che prepariamo delle focaccine imburrate noi fingiamo nella nostra immaginazione che si tratti di focaccine che ne ha comprato c'è solo ho sforzo un po' di burro sopra perché è incapace di cucinare questo è sempre nella nostra fantasia radio accesa la stazione pop e in questa partita voglio fare una cosa che in tutte le altre non ho mai fatto ovvero voglio che sia il gioco a propormi le preferenze i gusti musicali l'arredamento delle abilità delle attività da fare e del colore perché voglio che appunto proprio giocando il gioco mi indichi quelle che sono le attività le preferenze più adatte sia lei che a Francesca quindi voglio fare questa cosa nuova in questo caso da notare che mi cucini sempre nei spazi più indecenti mia cara hai tantissimi banconi vuoti tantissimi vabbè io non mi scandalizzo neanche più e poi attendiamo a proposito come sei messa con la tua carriera Tania tra 5 ore oh mio dio oh mio dio però hai fatto tutto e volevo che tu potessi lavorare da casa bene ma non bellissimo e a questo punto facciamo così perché abbiamo bisogno di dinero ragazzi noi abbiamo preparato le focaccine fingiamo che le abbiamo comprate per la verità stasera ceneremo per nessima cosa con pizza io la mando al lavoro oggi andiamo domani che sarà giornata libera e facciamo così inseriamo proprio la festività allora una festività e mettiamo sì per fingere che sia un picnic mettiamo che sia questo allora picnic in campagna campagna wow allora decorazioni di nessuno però è la giornata libera sicuramente viaggeremo sicuramente fuoco lì non c'è però potremmo vedere di raccogliere bacche quello che insomma troviamo e anche divertimento acquatico perché potremmo andare vicino al fiume ci sto ci sto ok perfetto allora a questo punto mia cara tu ti vai a fare una doccia e nel frattempo attendiamo che arrivi la nostra Francesca da scuola intanto possiamo prenderci cura di questo orticello vicino vicino che ci siamo create e direi anche che possiamo provare a giocare alla lotteria a me è capitato solo una volta di vincere ma vi assicuro ragazzi che si può vincere allora pubblica l'annuncio o no acquista un biglietto della lotteria vai ok direi che adesso possiamo proprio riempire il nostro figo nel frattempo che attendi che tua figlia torni potresti metterti qui a lavorare un po' a maglia vediamo per animali wow calze berretti andiamo di calze ecco questo piccolo procione verde io li adoro perfetto e intanto potremmo riempire il frigo un po' di roba fresca considerando che da mangiare abbiamo solo cibo veramente spazzatura prezzemora prezzemora che ci serve la salvia pure l'aglio anche basilico e basta così cioè guardate un po' pan bauletto e patatine la macedonia l'abbiamo preparata stamattina perché non potevamo fare colazione con la pizza o le patatine però questo è questa è la vita e l'alimentazione della nostra Tania ragazzi veramente uno schifo e allora Tania tu oggi vai al lavoro e tua figlia ti raggiunge qui chi è appena tornata dalla scuola e si metterà a studiare accanto a te approfittando di questa retta che starete insieme purtroppo vi ricordo che lei è una single una mamma single quindi purtroppo succede che ahimè è sempre al lavoro perché comunque pagare mantenere una casa da soli non è per niente semplice ciao mamma io sono appena tornata e lei le chiede come è andata la tua giornata tesoro come è andata a scuola Francesca è tornata a casa ma dai che bravissima allora possiamo dirle chiederle della scuola mentre lei fa i compiti che media ha la nostra Francesca da 7 ma come mai come mai oh perfetto perfetto allora ragazzi io in realtà volevo che lei fosse cazze spagliate scadenti ragazze e ragazzi oh mio dio sono di e nei mila colori non sono quelle che avevamo pensato di avere oh mio dio no vabbè mi dispiace un sacco ma io queste me le conservo le mettiamo sotto il pigiomino invernale e dicevo io volevo anche vendere qualcosa per fare un po' di soldi nel frattempo ma pare che non sia veramente cosa allora aiutala un pochettino a fare i compiti dai ecco sono le campane ora devi andare ahimè lei è diventata super concentrata ma tesoro tu devi andare a lavoro perché abbiamo bisogno della tua promozione oggi no eh non è neanche scontata che l'avremo vai vai ciao mamma buon lavoro ti raccomando eh brava cambiati hai finito di fare i compiti perfetto però senti a me ah tu non puoi neanche fare gli atti extra curriculari perché appunto sei da sette devi sperare di avere già una sufficienza ma malediscio ma dato che tu sei ecco dove te la viene lungomare un amante della lettura puoi fare questo e dopo metterti a scrivere sul diario lei vedete ragazzi il drago lei ha una fantasia sconfinata legge tantissimo ma questo non sempre a scuola viene compreso quindi dobbiamo veramente cercare di dare il meglio di noi di capire il metodo e insomma di diventare sempre più bravi guardate questi sono tutti i libri suoi enciclopedie che ama leggere sugli animali sull'ornitologia insomma perché è una bambina veramente molto curiosa molto molto curiosa quindi io mi aspetto che a scuola abbia il massimo infatti questo progetto che ha fatto il vulcano con reazione chimica è di qualità eccellente per dirvi e allora ragazzi voi sapete che è stramata da tutta questa cittadina la nostra Francesca e infatti sta giocando con il mio carissimo Bjorn a scacchi perché lì è un piccolo genio ma la nostra Italia come avrete visto ha avuto una promozione promossa recensitrice raffinata guandagnerà 27 simoleon in più per un totale di 93 ricevuto anche un dipinto wow interazione l'odalarte e 463 simoleon meno male che stavamo a corto di dinero che carino sto dipinto camera con vista ma questo ci sta benissimo nel nostro studio qui eh sì magari ok con questa cornice e direi a questo punto sì di avete entrambe fame però avete la pizza di ieri allora nel frattempo che ti aspetti che lei appunto venga qui torni a casa potresti avvisare della promozione della tua migliore amica che se non ve lo ricordate ve lo ricordo io c'è Esther è proprio la nostra candy bear chiacchiera chiacchiera intanto francesca ti prego questa partita la devi vincere come sta andando c'è anche la nostra penny pizza qui che ci osserva queste faccine buffissime che mi fa mi piace è una tenerona è una tenerona in realtà la nostra francesca e niente ragazzi biorna ha vinto di nuovo non ce la possiamo fare veramente e allora ragazzi adesso mando francesca a farsi la doccia e poi a fare la nanna ci rivediamo direttamente domattina ma buongiorno tania allora prima di tutto devi assolutamente andare in bagno ci dobbiamo preparare per questa giornata ti fai una bella doccia e poi dobbiamo assolutamente preparare il cesto da picnic tra l'altro il sabo eh queste sono questa è una maniaca del caffè purtroppo sua figlia vedendo l'esempio sciagurato della madre lo sarà anche lei quindi è inutile che ci portiamo il latte magari portiamo una bottiglietta per la bambina noi abbiamo bisogno di caffè e prima di andare a fare il picnic passeremo dalla nostra dal nostro diner di fiducia ho il cestino pronto fatti la doccia vediamo se c'è anche del bucato da fare decisamente ok perfetto mettiamolo in funzione tu oggi non dovevi lavorare vero? è come incarico però devi recensire l'esibizione e scrivere un articolo completato? quanto? vabbè va bene così allora perché dobbiamo andare assolutamente al diner la nostra Francesca che è pronta da ore c'è la madre è stata l'ultima ad alzarsi è venuta qui per perdere un po' di tempo ma divertirsi comunque a giocare a scacchi anche perché dobbiamo completare quest'ultimo requisito non mi dire che hai perso che stavolta ti prego quanto mi si antipatica tu best sterling sterling che cerchi sempre le nostre sterline batten per piacere non è gradita la tua presenza te lo debbo dire curiamo un attimo il giardino perché ci serve di nero e partiamo cioè ragazzi seriamente un adulto e una bambina ma io non lo so è questo punto che proprio attira le botte oh mio dio oh mio dio cioè te li stai facendo odore da una bambina oh mio dio ah l'hai sistemata però eh oh mio dio oh questa volta ha vinto cioè lei proprio è talmente concentrata che non ha notato nulla ma sei bravissima sei stupenda brava ehm assicurati che qui sia tutto a posto però chi è questa bambina pari scusatemi pari ehm srivastava che è così tipo slava vabbè Tania tu come stai messa vedo che ti piace questo vestito e te lo metti sempre oddio si vede la bronzatura del costume vabbè e intanto ragazzi il North Greenberg ha vinto la lotteria e quindi si è diventato milionario succede veramente ragazzi si andate a controllare nell'unità familiare di della persona che hanno indicato come milionario veramente risulterà tale allora quindi sarebbe un buon partito in realtà caffè sicuramente per lei e una bella sfremuta d'arancia per per Francesca e poi direi di prendercelo un cornettino ma si dai per entrambe e allora per me il mio salito caffè per Francesca una bella spremuta e due cornetti al cioccolato please gentilissimo allora Francesca cosa ne pensi di questa nuova esperienza che faremo insieme intanto entusiasmiamoci per il giardinaggio sì io ho un po' paura degli insetti lo sai non mi piace molto stare nella natura e spero che ci siano quantomeno dei bagni condividi un segreto o no chiedi della soggiornata mamma io non vedo l'ora gli insetti sono naturali poleroro non devi avere paura mamma non è che farò paura mi fanno proprio schifo capisci la differenza mi disgustano mamma devi avere pazienza non possiamo sempre subire l'inquinamento delle cittadine varie perché lì è fissata con semmai sciuno adora winderbrook è il posto in cui scelto di vivere però adora semmai sciuno proprio la vita cittadina al contrario di lei che invece ama proprio girare tutto il mondo conosce tutti gli scenari e glielo faremo fare crescendo cioè voi mi rendete conto che lei per non cucinare viene ogni giorno spende un bucchio di soldi per mangiare fuori è qualcosa di incredibile veramente è di unbelievable perché cioè proprio la cucina non è per lei diciamo che quel poco che ha cucinato comunque le ha fatto aumentare le abilità perché è a livello 8 di cucina però ragazzi a lei non piace è solo junk food perfetto ragazzi c'è finalmente arrivata la colazione appena terminiamo scappiamo in campagna intanto giusto per farvi capire qui la qualità è sempre eccellente come notate in me è una volta che ci arriva qualcosa che non sia buono oh ed eccoci qui nel nostro bosco la prima cosa che dobbiamo fare ragazzi assolutamente è andarci a fare un bagnetto in quest'acqua limpidissima si può vero? ricordo di sì esatto da qui si può credo si possa andare eh sì allora nuota vicino insieme ti prego poi io voglio questo trocco a casa nostra dobbiamo assolutamente cercare di sbloccarlo che carini che siete cioè guardate che bellissima giornata d'estate leggermente nuvoloso ma non troppo oddio le lanterne che scendono da questo salice piangente stupende e niente io amo questo mondo amo questo scenario dai ragazze venite assolutamente a farvi una bella nuotata le camminate sui tronchi ma ci rendiamo conto qui intanto avvistamento di una celebrità e vabbè gioia condivisa per un senso di vicinanza nei confronti di qualcuno che si sente che si sente a posto vedere che un simo adorato da Francesca si sente felice in un fondo è un po' di gioia anche lei perché sei uscita no un'altra vicina c'è un po' paura non sei non sei polle tanto quanto tua madre vedo allora aspetta aspetta Tania dobbiamo fare un bel gavettone a tua figlia dove sta eccola qui aspetta Francesca ti faccio spruzzare la tua madre che è da giocare l'ora di turno vai no è fighissimo con questo cappello eh no vabbè due giocherellone veramente aspetta vendicati puoi spruzza tua madre spruzza tua madre e io in questa zona voglio fare il picnic guys oh due giocherellone ok dai statevi un altro poi in acqua dai notate notate vicino insieme e poi andiamo ad esplorare il bosco cioè ragazzi questo di sera immagino ci sarete stati è un'atmosfera stupenda e c'è anche wow c'è lui l'amico degli animali che stanno stendo i platani abbiamo il bagnetto vicino meno male una volpetta una volpetta ma sei carinissima tu cioè sei proprio ecco questo oddio tu guarda un po' vago e vuoi andare a rubare qualcosa non è vero? madonna mia sei bellissima io vorrei adottare una volpe se solo fosse possibile e intanto ragazzi vi faccio notare che Francesca ha trovato un giocattolo gettato via wewe è un'aggiunta perfetta per la sua scatola di giocattoli a casa che cosa hai trovato? oltre alla rana foglia amaculata l'elicottero va bene dai adesso si mettono un attimo così ad asciugarsi ad ammirare ad ammirare le nuvole quanto siete stupende voi due quanto siete stupende guarda quella nuvola sembra sembra una volpe oddio ma questo è il sole vero? si e si guarda quella nuvola sembra una volpe quell'altro un coniglio e allora ragazzi io ho deciso dato che siamo già arrivati ad un tempo abbastanza fondante sono un po' più di 20 minuti vi direi di dividere questa puntata in due parti e vi dico però rimanete sintonizzati perché faranno un incontro molto importante in questa foresta che cambierà davvero tantissime cose quindi io vi ringrazio per essere arrivati fin qui ci risentiamo nella prossima puntata e vi ricordo che intanto sono anche su Twitch dove porto avanti tantissime altre partite fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questa puntata ma soprattutto cosa vi aspettate di concludere con la prossima chi secondo voi incontreremo e voglio veramente sapere che cosa se indominerete o meno quindi ci vediamo alla prossima io vi saluto e mi raccomando se questo video vi è piaciuto lasciate un like e non dimenticatevi di iscrivervi al canale ciao ciao